Quale atomizzatore scelgo per trattare al meglio i miei vigneti? Quando facciamo dei trattamenti fitosanitari, dobbiamo fare i conti con due aspetti, la deriva e il bersaglio, e sono estremamente collegati. Più miscela fitoiatrica andrà a bersaglio e meno deriva avremo. Ma è sufficiente? No, per portare a casa il risultato, occorre verificare che la miscela fitoiatrica si sia distribuita in maniera omogenea su tutta la vegetazione e sul grappolo. Ma quindi, quali sono i parametri che condizionano il corretto trattamento delle piante? I parametri sono cinque. Vediamoli. Primo parametro. La velocità dell'eventuale vento presente al momento del trattamento. Questo non deve superare i cinque metri al secondo, ma se sono obbligato ad intervenire, è bene farlo riducendo la velocità di avanzamento. E l'utilizzo di ugelli antideriva. Secondo parametro. La velocità di lavoro, che è condizionata dalla massa fogliare presente in quel momento nel vigneto e, come già visto, dà eventuale presenza di vento. Possiamo generalizzare e dire che una buona velocità di lavoro si può attestare tra i cinque e i sette chilometri orari. Terzo parametro. Il volume è la velocità dell'aria prodotta dal ventilatore, che deve essere ben calibrata, in quanto l'aria è il vettore ed è responsabile del deposito della miscela fitoiatrica sul bersaglio. Se è insufficiente, non arriva a bersaglio. Se è eccessiva, attraversa la vegetazione generando deriva. Quarto parametro. La direzione dell'aria generata dal ventilatore, che fa la differenza. Se è perpendicolare rispetto all'avanzamento e alla vegetazione, rischia di generare l'effetto impacchettamento, ovvero le foglie apicali sollevandosi, aderiscono alle foglie più interne, non consentendo un trattamento omogeneo. Se invece la traiettoria di uscita è tangenziale, ovvero diagonale, rispetto alla vegetazione, questo farà sì che le foglie si muoveranno nello stesso modo, si metteranno ovvero in maniera obliqua e consentiranno l'ingresso di una maggiore quantità di goccioline che andranno a depositarsi in maniera omogenea fino alle foglie più interne e sul grappolo. Quinto parametro. La dimensione della goccia. A parità di litri ettaro, più sono piccole, più sono numerose e di conseguenza maggiore sarà la superficie fogliare trattata. Ma attenzione alle gocce troppo piccole, causa di deriva o evaporazione in momenti particolarmente caldi. E allora, quale atomizzatore mi garantisce la migliore qualità di trattamento? Dipende dalla forma di allevamento della vite. Per la pergola e il tendone sono consigliati atomizzatori assiali o con diffusori a manina o a ventaglio. Per la spaliera ci possiamo orientare tra diffusori a torretta, meglio se tangenziali, accalate con diffusori orientabili o nel caso di interfile non superiori ai 2,70-2,80 anche a multidiffusori aerei. Per il GDC occorrono diffusori multipli per trattare e mirare il cordone e le pareti interne. Per trattare la spaliera scelgo un monofilare o un multifilare. Considerando che la tempestività di intervento fa la differenza fino a una superficie da trattare di 10 ettari possiamo lavorare con un monofilare. Cosa diversa è quando dobbiamo trattare una maggiore superficie. Considerata la produttività di circa 2,5 ettari ora per un bifilare, questa scelta è ottima fino a 25 ettari. Considerando invece che con un trifilare possiamo avere una produttività di 3 ettari e mezzo l'ora, questa scelta andrà bene fino a 35 ettari. Nel prossimo video metteremo a confronto l'atomizzatore bifilare con l'atomizzatore con pannelli di recupero.